Buongiorno a tutti, benvenuti, io sono Massimo Volpe, questo è un antipasto al Congresso Nazionale della Società Italiana di Prevenzione Cardiovascolare, subito dopo questa, diciamo, iniziale presentazione di un documento e poi di una tavola rotonda che verrà impegnati degli altri relatori e ci sarà l'inaugurazione del Congresso. Questo è uno dei due documenti che quest'anno la Società Italiana di Prevenzione Cardiovascolare ha messo a punto per finalizzare la sua missione anche attraverso delle messe a punto su delle tematiche che sono in discussione in questo periodo e una delle tematiche sicuramente di grandissimo interesse che divide i medici un po' in tutto il mondo e divide anche il parere dei massimi esperti su quale sia la strategia migliore è l'impiego dell'aspirina, dell'acetilzalicidico in prevenzione primaria. Questo rappresenta naturalmente, come dice il titolo di questo documento, un'ulteriore sfida per l'aspirina dopo 120 anni. Io qui, diciamo, ho il piacere e anche il privilegio di introdurre i colleghi che hanno prestato la loro opera in questo documento, che sono esperti in settori importanti delle malattie cardiovascolari e che hanno, diciamo, in posizioni anche in carichi diversi ricoperto un ruolo importante sia nella letteratura che nella divulgazione ai colleghi medici altre iniziative importanti riguardo l'aspirina. Allora i colleghi, li introduco prima perché sono qui seduti in ordine alfabetico, il professor Raffaele De Caterina che è ordinario di cardiologia dell'Università di Chieti e che tutti quanti conoscono per i suoi importanti contributi dati proprio alla prevenzione degli eventi cardiovascolari e in particolare al ruolo importante nello studio dei meccanismi fisiopatologici del ruolo delle piastrine nelle malattie cardiovascolari dei farmaci antipiastrinici ed anticoagulanti ed ha partecipato, come vi farà vedere, anche dei documenti di posizione europei molto significativi. Il professor Luigi Palmieri che è un collega dell'Istituto Superiore di Sanità è un epidemiologo coinvolto nel studio delle malattie cardiovascolari da molti anni, fa parte di un importante gruppo di ricerca nell'ambito dell'Istituto e che ha contribuito in questi anni al dimensionamento del problema nel nostro Paese. Lui ci riferirà un pochino di quelli che sono gli attuali numeri. Poi abbiamo il professor Carlo Patrono che è un po' il papà dell'impiego, uno dei papà diciamo, uno dei due o tre, papà dell'aspirina a basso dosaggio nella prevenzione degli eventi cardiovascolari in prevenzione secondaria e che naturalmente è molto interessato anche agli sviluppi della discussione che sta avvenendo in questo periodo sul possibile impiego dell'aspirina in prevenzione primaria e questo documento vede anche il suo contributo non solo nel capitolo sui meccanismi che lui ha scritto ma anche nella digestione un po' di quelli che sono i dati nell'equilibrio, nell'interpretazione dei dati che sono disponibili e che si renderanno disponibili. Infine il collega amico Augusto Zaninelli che è un medico di medicina generale e che è stato sempre molto interessato nel studio delle malattie cardiovascolari e nella prevenzione in quella che viene chiamata la medicina anticipatoria con un termine proprio di Augusto Zaninelli e che ha fatto parte anche lui di panel di diversi linee guida anche nazionali come quelle per esempio sulla prevenzione dello stroke. Detto questo io ho giusto tre o quattro diapositive per introdurre il titolo aspirina in prevenzione primaria nuovo obiettivo dopo 120 anni qual è il problema? Il problema è che naturalmente in molti paesi questo impiego è diventato un po' se mi consentite il termine un impiego basato sulla decisione e l'orientamento individuale addirittura del paziente. Tutti noi abbiamo nella nostra pratica clinica conoscenza di pazienti che decidono arbitrariamente se prendere o non prendere l'aspirina perché magari ritengono che questo gli possa dare una protezione nei confronti delle malattie cardiovascolari. Noi riteniamo che sia arrivato il tempo di fare un po' di chiarezza scientifica sull'argomento. Ci sono molti studi che sono in corso e lo vedrete che però difficilmente riusciranno a mettere la parola fine alla disputa perché studiano popolazioni differenti tra di loro, ci sono sistemi di aggiudicazione degli eventi differenti, certamente comunque contribuiranno a comprendere. Però ci vorranno un po' di anni, ci vorranno 4, 5, 6 anni e in questi 4, 5, 6 anni la domanda che ci si pone è lecito aspettare la fine di questi studi o forse in alcuni pazienti potrebbe essere il caso di porsi il problema. E questa diapositiva riassume un po' quello che abbiamo trattato nella ampia introduzione del documento cioè vedete naturalmente l'aspirina ha una potenzialità di prevenzione cardiovascolare anche purtroppo la potenzialità di favorire alcuni eventi emorragici minori o maggiori e la difficoltà per il medico è stabilire a quale paziente si possa dedicare un'attenzione particolare. Ora naturalmente esistono la stima del rischio e altri argomenti che possono essere importanti ma questo riporta un po' alla pratica clinica, una pratica clinica antica se volete ma che può essere la base di una discussione perché negli ultimi anni alla proprietà dell'aspirina di prevenire gli eventi cardiovascolari si è aggiunta una evidenza sempre crescente e stimolante di prevenzione di malattie neoplastiche da parte dell'aspirina particolarmente del cancro del colon. In questi termini i dati appunto si stanno sommando e possono diventare un elemento che favorisce il giudizio clinico aspirina sì, aspirina no, aspirina forse a seconda del rischio aterotrombotico del rischio emorragico e del rischio per esempio individuale di essere esposti a una malattia neoplastica e quindi da una situazione di equilibrio totale in cui ci troviamo oggi benefici da una parte la prevenzione cardiovascolare dall'altra i sanguinamenti gastrointestinali o peggio per fortuna in non moltissimi casi i sanguinamenti intracranici ebbene l'elemento che potrebbe far pendere la bilancia verso un'anticipazione dell'impiego dell'aspirina verso un uso più ampio in una prevenzione primaria che non è più la prevenzione cardiovascolare ma è una prevenzione integrata se volete o prevenzione punto è chiaro che la possibilità di aggiungere la prevenzione cardiovascolare la prevenzione del cancro e la prevenzione della progressione delle metastasi nelle malattie neoplastiche questo può rappresentare un argomento fortemente incentivante essendo il rischio di fatto sempre lo stesso e qui io mi fermo e do in primo luogo adesso non mi ricordo qual è l'ordine perché ho scritto le persone ma immagino che forse Luigi Palmieri sia la persona più adatta per darci un po' la cornice iniziale del problema Buon poveriggio a tutti voglio ringraziare gli organizzatori in particolare il professor Bruno Trimarco il professor Massimo Volpe per avermi invitato qui a dare un po' il quadro epidemiologico delle malattie cardiovascolari in Italia Partiamo dagli indicatori più grezzi mortalità le buone notizie sono che negli ultimi 30 anni la mortalità generale nel nostro paese si è dimezzata e un grosso contributo è derivato proprio dalla riduzione della mortalità delle malattie coronariche 63% e cerebrovascolari 70% quindi grossi miglioramenti dal punto di vista della riduzione della mortalità nel 2013 però quindi l'ultimo dato disponibile ISTAT le malattie cardiovascolari e in particolare le malattie del sistema circolatorio ancora rappresentano il 37% di tutta la mortalità generale sono ancora le principali cause di malattia di decesso nel nostro paese e in particolare le malattie coronariche contribuiscono con quasi il 12% e le malattie cerebrovascolari nel loro complesso con circa il 10% ospedalizzazioni questi sono indicatori diciamo così quasi amministrativi mortalità ospedalizzazioni oramai anche per il cambiamento dei criteri diagnostici con cui vengono validati rilevati gli eventi coronarici e cerebrovascolari non si parla più semplicemente di infarto e di ictus ma più in generale di sindrome coronarica acuta e spesso però i ricoveri sono dovuti più a scompenso cardiaco aritmie che sono evoluzioni delle forme acute e subacute di ischemia miocardica in realtà la ospedalizzazione anche per un'organizzazione diversa negli interventi pensiamo semplicemente che 10, 15, 20 anni fa un infarto significava rimanere in ricoverati per giorni o settimane mentre adesso sostanzialmente a parte che si quasi si previene perché al minimo segno si fanno interventi di angioplastica e comunque il tempo di ricovero è molto più ridotto comunque appunto tra il 2011 e il 2015 i tassi di ospedalizzazione cioè il numero di ospedalizzazioni sulla popolazione residente si sono diminuiti per malattie coronariche del 16% circa e per gli accidenti cerebrovascolari del 12% circa questi sono indicatori grezzi che derivano da sostanzialmente dati amministrativi quelli che vengono raccolti rutinariamente dal sistema sanitario nazionale poi ci sono gli studi e in particolare perché per cercare di andare più in profondità e approfondire meglio la conoscenza della malattia per esempio c'è il tentativo di valutare qual è l'incidenza della malattia l'incidenza si intende l'occorrenza del primo evento cardiovascolare nella popolazione grazie al progetto Cuore e al fatto di aver potuto mettere insieme corti di popolazioni per eseguire degli studi longitudinali riguardanti la popolazione italiana in varie aree del paese per studio longitudinale consideriamo l'arruolamento di persone di un campione di persone in un certo momento e quindi la misurazione di una serie di parametri e poi il fatto di seguirle nel tempo per registrare tutti gli eventi che queste persone producono ebbene grazie alla partecipazione allo studio internazionale il progetto Monica dalla metà degli anni 80 alla metà degli anni 90 è stato possibile unificare in quattro aree del paese cohorti che avevano raccolto i dati nello stesso modo e non solo avevano registrato gli eventi colonali e cerce europeo scolari nello stesso modo seguendo gli stessi criteri diagnostici standardizzati quindi è stato possibile mettere in pool i dati e su circa 20.000 uomini e donne come vedete 7.500 uomini che hanno prodotto 643 eventi in un tempo mediano di 10 anni circa e sono sostanzialmente la metà degli uomini che hanno prodotto perché come vedete le donne sono solo 13.000 sono 13.000 quindi quasi il doppio degli uomini hanno prodotto il doppio degli eventi invece prodotti dalle donne le donne su 13.000 328 eventi gli uomini su 7.500 643 eventi ebbene da questi dati è stato possibile sostanzialmente stimare l'incidenza l'occorrenza del primo evento cardiovascolare 59 per 10.000 persone all'anno è un indicatore che vi do così significa non considerare solo le persone ma le persone per che hanno contribuito anche proporzionalmente al tempo in cui sono rimaste nello studio e sono circa 50 scusate esc ok ecco per l'infarto acuto 59 per 10.000 persone all'anno negli uomini e 15 nelle donne come vediamo quasi 4 volte l'incidenza della malattia negli uomini rispetto alle donne per l'ictus 24 per 10.000 persone all'anno per gli uomini e 13 per le donne praticamente il doppio stiamo parlando però di un'età 35-69 anni stiamo aggiornando le corte e contiamo di aggiungere una decade all'età considerata anche se dobbiamo considerare che più arruoliamo persone diciamo di una certa età anziane più è difficile esattamente isolare l'evento e le cause dell'evento questi studi hanno permesso di costruire degli strumenti ne parlerò in seguito la carta del rischio e il punteggio individuale che permettono sulla base di 8 fattori di rischio di stimare la probabilità di andare incontro per le persone sane in prevenzione primaria quindi che non hanno ancora avuto un evento cardiovascolare questo è adottato dai medici in medicina generale poi vi farò vedere alcuni risultati incidenza occorrenza del primo evento e invece occorrenza del primo evento e delle ricadute si dice tasso di attacco e anche l'altro indicatore la letalità cioè quanti degli eventi che occorrono nella popolazione sono sostanzialmente fatali in che proporzione questo tipo di indicatori si evince e si stima attraverso un altro tipo di studio che sono i registri in Italia abbiamo avuto in 8 aree del paese dei registri degli eventi coronarici e cerebrovascolari maggiori e qua porto esempio tra il BI98-99 e il 2003 quello che si è visto qual è cos'è è che il tasso di attacco quindi l'occorrenza dei primi eventi è ricaduta negli uomini per eventi coronarici è risultato è leggermente diminuito tra il 98 e il 2003 dal 30 al 29 per 100.000 persone ma come vedete rimane questa proporzione praticamente quadrupla di occorrenza della malattia tra gli uomini e le donne l'8 per 100.000 nelle donne 30 per gli uomini ma al contrario la letalità cioè la proporzione di eventi fatali rispetto alla totalità degli eventi invece risulta essere più alta nelle donne quindi nelle donne gli eventi si presentano con minor frequenza ma spesso sono più gravi e questo è per gli accidenti cerebrovascolari è sempre più alta la proporzione l'occorrenza della malattia negli uomini 22% contro il 13% praticamente il doppio e solo leggermente più alta la letalità nelle donne rispetto agli uomini allora indicatori grezzi mortalità ospedalizzazione incidenza tasso di attacco letalità cosa succede rispetto alla prevalenza cioè sostanzialmente chi è sopravvissuto quante sono le persone che sopravvivono all'evento e che sono appunto nella popolazione e che hanno avuto l'esperienza di evento cardiovascolare questo altro indicatore fondamentale per dare un quadro epidemiologico della popolazione rispetto alla malattia è stato possibile stimarlo attraverso uno studio trasversale l'osservatorio epidemiologico cardiovascolare che è stato implementato tra il 98 e il 2002 una prima volta e una seconda volta a 10 anni di distanza circa 10.000 persone residenti sono state arruolate in modo random in diversi comuni in tutto il territorio nazionale con la rappresentatività di tutte le regioni del paese e questi sono stati i dati che sono stati raccolti pressione arteriosa un prelevo di sangue a digiuno per esami ematochimici colesterolemia assetto quindi assetto lipidico creatinemia glicemia emocromo è stato somministrato un questionario sugli stili di vita e per avere l'anamnisi patologica rispetto alle malattie cardiovascolari nella seconda edizione è stato aggiunto un questionario alimentare standardizzato per valutare appunto le abitudini alimentari delle persone sono state misurate i dati antropometrici è stato effettuato un elettrocardiogramma e nella seconda edizione sono stati aggiunti anche densitometria ossea spirometria monossido di carbonio e per le persone oltre 65 anni anche un questionario per la capacità cognitiva nell'ultima edizione è stata anche introdotta la raccolta delle urini delle 24 ore fondamentale per misurare la concentrazione di sodio potassio iodio nell'urine delle persone il tasso di partecipazione è stato complessivamente del 53% con un minimo ovviamente guardate qui nella città di Roma e un massimo invece in Val d'Aosta purtroppo questo tipo di studi è sempre più difficile portarli avanti innanzitutto per i costi tenete conto che la maggior parte di questi sono dati misurati cioè si hanno dei locali si devono trovare dei locali ci sono dei medici gli infermieri le persone devono venire bisogna fare un prelievo e fare delle misurazioni standardizzate con procedure standardizzate che è molto più complicato che fare per esempio un'intervista per telefono o comunque via posta comunque stiamo perfettamente in linea purtroppo nelle grandi città con il resto dell'Europa l'Olanda addirittura ha praticamente rinunciato a fare un tipo di indagini di questo tipo e in Inghilterra e a Londra stiamo intorno al 30% di tasso di partecipazione per la prima volta nell'ultima edizione abbiamo avuto circa un 10% complessivo di migranti però di varie etnie e di varie provenienze quindi è stato quasi impossibile fare una valutazione specifica nel questionario appunto sono state raccolte sostanzialmente alla prevalenza delle principali malattie cardiovascolari aggiungo solo che per l'infarto pregresso è stato incrociato il dato del questionario con il risultato dell'elettrocardiogramma mentre appunto la fibrillazione atriale e l'ipertrofia ventricolare sinistra sono stati valutati solo attraverso i risultati dell'elettrocardiogramma non so se riuscite a vedere in particolare questa slide che è un po' riassuntiva in realtà non ci sono state grosse variazioni nella prevalenza delle principali malattie cardiovascolari in questi dieci anni tra il 2000 diciamo così e il 2010 l'unica diciamo gli unici risultati significativamente diversi sono avuti innanzitutto per l'aumento degli interventi di rivascolarizzazione sia negli uomini che nelle donne e per gli uomini una riduzione della fibrillazione atriale gli andamenti che vedete in realtà sia uomini e donne spesso sono non significativamente diversi dal punto di vista statistico comunque danno la direzione in cui stiamo andando dal punto di vista invece dei fattori dei principali fattori di rischio le scusate le buone notizie le buone notizie vengono soprattutto dalla pressione arteriosa c'è una riduzione generalizzata negli ultimi dieci anni della pressione arteriosa vuoi per effetto delle azioni di prevenzione che riguardano a parte l'azione dei medici e ovviamente tanto più i medici che si occupano di prevenzione direttamente come voi con trattamenti farmacologici vuoi perché piano piano certi comportamenti certi stili di vita stanno come dire sono sempre più adottati dalla popolazione è un cambiamento culturale che ovviamente necessita di molti anni perché possa prendere piede e le tristi notizie derivano invece dall'aumento sostanzialmente della colesterolemia totale e quindi LDL un leggero aumento dell'HDL quindi che se vogliamo può compensare in parte questo aumento dei lipidi e la glicemia rimane sostanzialmente così come la prevalenza di diabete rimane sostanzialmente stabile e invece l'altro dato preoccupante è l'aumento dell'obesità l'aumento dell'obesità che vedete significativo ma qua stiamo parlando di quasi un punto di BMI di indice di massa corporea consideriamo che un punto di indice di massa corporea è tanto quando siamo su una persona diciamo così una persona di 1,65 1,70 siamo intorno ai 5-4-5 chili di aumento di peso medio sulla popolazione quindi sono numeri piuttosto preoccupanti invece rispetto alle condizioni a rischio abbiamo una riduzione dell'abitudine al fumo è un trend che per gli uomini sostanzialmente senza soluzione di continuità diciamo dal dopoguerra considerate che nell'immediato dopoguerra quasi il 95% degli uomini fumava adesso siamo intorno al 23-22% e invece per le donne questa riduzione è molto minima ma considerate che le donne purtroppo soprattutto nelle età giovani stanno riprendendo questa abitudine dannosa diabete come dicevo sostanzialmente stabile ipertensione che si riduce leggermente e ipercolistoremia invece e obesità che aumentano in modo significativo tutti questi dati in realtà danno un quadro ma a secondo dell'ottica con cui noi li prendiamo chiudo questa è l'ultima slide in realtà messi insieme e opportunamente elaborati in qualche modo ci danno anche un'immagine di quello che è stato che può essere il contributo delle diverse azioni da un punto di vista della riduzione dei fattori rischi della popolazione dal punto di vista dei trattamenti farmacologici chirurgici in prevenzione primaria secondaria o nell'evento acuto come vedete qui molto grossolanamente nella riduzione della mortalità dei vent'anni tra l'ottanta e il duemila per mortalità coronarica un grosso contributo circa il 55% come differenza rispetto agli fattori rischi che sono aumentati nella popolazione deriva dalla riduzione dei fattori rischi nella popolazione l'altro 40% deriva dall'insieme dei trattamenti compresa l'aspirina di cui parlavo prima grazie scusate se sono andato fuori tempo la popolazione dell'individuo quindi è stato un'attività sinteticamente assolutamente eccolo qua bene molto sinteticamente la mia proposta è quella di nemmeno io entrerò nello specifico dell'aspirina nonostante si parli di questo ma lasceremo a chi seguirà il dettaglio degli aspetti scientifici il mio compito è quello invece di illustrare un po' il modello organizzativo che la medicina delle cure primarie dovrebbe portare per poter svolgere una efficace prevenzione primaria ora in ottemperanza a quelle che sono le regole delle cm regole del ministero la mia prima diapositiva riguarda il conflitto di interessi e come vedete io non ho come molti medici di campagna non ho nessun conflitto di interesse a dire la verità avevo chiesto se qualche uovo o dei salami regalati potessero rientrare nel conflitto di interesse ma è stato risposto di no potevo scrivere nessun conflitto di interesse tuttavia la locandina di questo film della fine dello scorso anno che appunto ritrae in qualche modo e dà la prospettiva del medico di campagna è abbastanza significativa perché qualche tempo fa probabilmente ci sarebbe stata solo la figura di questo medico che ha più o meno la mia età quindi anche abbastanza vicino alla pensione che camminava da solo ma come vedete adesso comincia ad essere affiancato da una dottoressa giovane proprio perché il modello organizzativo della medicina del territorio sta cambiando di fatti nei primi anni 80 si diceva che il medico di famiglia e il suo paziente come se fossero da soli su un'isola deserta in modo da esaltare al massimo il rapporto medico paziente e da magnificare in qualche modo l'individualità di questo tipo di rapporto bene da questo esempio siamo passati invece a un modello della medicina di gruppo della medicina di rete come potete vedere in questo gruppo di medici della provincia di Pistoia che sono uniti in una associazione ma il futuro è piuttosto questo dove insieme con i medici di famiglia ci sono anche figure non mediche in particolare gli infermieri di famiglia perché una buona prevenzione sul territorio si può fare con una buona organizzazione della medicina delle cure primarie che deve essere costituita da un team multiprofessionale appunto per le cure primarie i dati sull'invecchiamento della popolazione riconosciamo tutti questi sono i dati ufficiali dell'istrat e vedete come nel 2042 in cui peraltro speriamo io personalmente di far parte c'è un discreto aumento della popolazione che avrà più di 65 anni e quindi quello che viene in qualche modo chiesto alla medicina di famiglia nei prossimi anni è soprattutto la gestione della cronicità come vedete oppure della comorbidità come si può vedere in questi grafici che in qualche modo fanno vedere come sempre di più i pazienti nel futuro saranno complessi per cui il piano nazionale della cronicità piuttosto che altre frasi come la presa in carico i DRG territoriali le case della salute le FT le UCCP sono tutte dei termini che in qualche modo riguardano la gestione della cronicità e quindi dove sta poi la prevenzione primaria che è uno anche degli obiettivi della medicina generale la prevenzione primaria si fa sui pazienti nei quali è possibile farlo e il modello organizzativo prevede quattro tipologie di pazienti che affluiscono negli ambulatori dei medici di famiglia la persona sana apparentemente sana il paziente non classificato il paziente cronico il paziente non autosufficiente o fragile evidentemente la prevenzione primaria si fa nelle prime due categorie in particolare la persona sana non c'è bisogno di definirla più di tanto e la persona invece non classificata è il soggetto che ha un primo contatto col sistema sanitario nazionale a volte anche non persone italiane o di altra etnia per cui anche questo va tenuto presente e in situazioni di elezione o di condizioni non complesse potrebbe rientrare nei programmi di prevenzione i metodi di approccio io mi scuso con i medici di famiglia presenti in sala perché sono cose che loro conoscono bene ma la metodologia per la prevenzione primaria riguarda tre tipi di medicine la prima è la medicina d'attesa che vuol dire dare al paziente quello che lui si aspetta da noi in questo caso si tratta di un paziente che viene in studio consapevole del fatto che vuole effettuare su di sé delle manovre delle formule delle applicazioni di prevenzione primaria e questo è abbastanza intuitivo però abbiamo anche la cosiddetta medicina di opportunità cioè approfittare del fatto che il paziente sia in studio per un qualunque tipo di motivo anche per il certificato per l'idoneità sportiva piuttosto che quello per il porto d'armi per affrontare programmi o applicazioni di prevenzione e la terza invece è quella che diceva il professor Volpe la cosiddetta medicina anticipatoria o medicina di iniziativa che significa mandare e chiamare le persone che non vengono mai perché la nostra conoscenza anche della situazione familiare di determinati pazienti fanno sì che noi possiamo anche sospettare la necessità che per alcuni che non vengono mai sia utile e valido effettuare o iniziare dei programmi di prevenzione primaria sul territorio ma anche credo nella medicina specialistica si cerca sempre di più di evitare di avere un cut off rigido fra prevenzione primaria e prevenzione secondaria ma di avere invece un continuum che va dal basso rischio fino all'alto o altissimo rischio per quanto riguarda lo sviluppare o avere malattie cardio e cerebrovascolari e quindi un altro possibile modello che si deve applicare nella medicina del territorio è quello delle cosiddette 4P cioè una medicina predittiva una medicina preventiva una medicina partecipatoria con il coinvolgimento dei pazienti e una medicina personalizzata queste 4P hanno così l'obiettivo di sfociare nella quinta P che è la cosiddetta medicina di precisione in cui ritorniamo paradossalmente all'isola deserta che abbiamo visto prima quindi all'estrema individualizzazione del rapporto in cui noi dovremmo essere in grado di trovare il giusto farmaco o la giusta dose per il giusto paziente in questo in parte ma in una buona parte ci vengono in aiuto anche le linee guida e quindi i medici di famiglia utilizzano le linee guida io in particolare ho così il piacere di presentarvi l'ottava edizione delle linee guida dell'Ixus e cerebrale che mi vedono come vice coordinatore nazionale di questo gruppo di 170 medici di tutte le specializzazioni che hanno scritto le sintesi e le raccomandazioni in particolare queste ultime sono datate il 21 luglio del 2016 e è particolarmente così interessante per noi presentare questa raccomandazione in prevenzione primaria per quanto riguarda l'utilizzo dell'aspirina che come viene evidenziato qui ci fa dire che la prevenzione primaria raccomandata nei soggetti con rischio stimato 10 anni di eventi superiore al 10% nei quali il beneficio sia ritenuto sufficientemente elevato rispetto al rischio di avere emorragie o di sanguinamenti derivati dall'aspirina stessa ma non solo questo rischio beneficio viene valutato in base al beneficio di avere una prevenzione degli eventi cardiovascolari e un rischio di avere sanguinamento ma anche tenendo conto come scritto qui dei possibili benefici addizionali relativi all'effetto protettivo verso lo sviluppo di neoplasie e questo ci tengo a presentarlo perché soprattutto per noi che dobbiamo valutare in modo molto personalizzato il rapporto col paziente e anche la sua prevenzione primaria anche questo aspetto va considerato e ci tengo anche a sottolineare che le linee guida spread sono fra le prime in Italia e in Europa secondo gli Stati Uniti ma prima in Italia e in Europa a parlare in una raccomandazione anche delle neoplasie per cui per noi per la medicina primaria per la medicina del territorio se consideriamo che c'è una quota di pazienti con la prevenzione secondaria e va bene una quota di pazienti che ha un rischio cardiovascolare medio e un rischio cardiovascolare basso pensare di dare l'aspirina in queste tipologie di pazienti va bene oltretutto però va anche pensato ipotizzato che c'è una quota trasversale di pazienti che anche ha aumentato il rischio di sviluppare alcuni tipi di tumori o di neoplasie vi ringrazio molto per la vostra attenzione grazie a te Augusto quindi abbiamo definito la dimensione del problema abbiamo sentito della responsabilità e anche dei dubbi da sciogliere per il medico di medicina generale ora cominciamo a parlare delle armi a disposizione come e quando eventualmente utilizzarle Carlo Patrono parla credo non solo del meccanismo ma anche no prevalentemente del meccanismo grazie Carlo grazie a te Massimo nel parlare di aspirina questi sono i miei conflitti di interesse che comprendono rapporti di natura finanziaria con con Bayer e nel parlare di meccanismo d'azione dell'aspirina volevo dire che questo è un caso un po' particolare perché abbiamo a che fare con un farmaco vecchio di 120 anni che è stato utilizzato per i primi 70 anni della sua vita senza avere la più pallida idea di come funzionasse come analgesico antinfiammatorio antipiretico scoperta del meccanismo d'azione risale ai primi anni 70 è un farmaco che ha molteplici attività farmacologiche per il quale sono stati proposti diversi meccanismi e vorrei condividere con voi l'idea che ci debbano essere dei criteri dei requisiti da soddisfare per ritenere credibile un particolare meccanismo d'azione e questi comprendono il chiedere di vedere una struttura dei cristalli del target farmacologico cristallizzato insieme con il farmaco tutto questo oggi è possibile è possibile cristallizzare una proteina un recettore un enzima insieme con il farmaco e attraverso i raggi X analizzare i cristalli e farsi un modello tridimensionale che ci consenta di capire dove il farmaco si va a legare con questo target farmacologico e come questo spiega una modulazione della funzione del target farmacologico poi bisogna chiedere che sia rispettata una plausibilità biologica del legame meccanicistico fra la modulazione del target farmacologico e le conseguenze funzionali che spiegano o possono spiegare gli effetti clinici inoltre bisogna dimostrare coerenza tra le concentrazioni richieste per la modulazione del target farmacologico in vitro e cioè farmacodinamica e le concentrazioni plasmatiche terapeutiche che si realizzano in vivo dopo somministrazione del farmaco quindi farmacocinetica infine ci deve essere coerenza fra la dose o le dosi giornaliere e i regimi posologici richiesti per la modulazione del target farmacologico in vivo o ex vivo e quelli associati all'efficacia clinica allora se parliamo di aspirina come antiaggregante piastrinico il target farmacologico identificato è la ciclosigenasi 1 piastrinica o prostaglandina H sintasi 1 piastrinica che ha questa struttura tridimensionale è una proteina integrale di membrana ancorata alla membrana cellulare attraverso questi cilindri che vedete in giallo il substrato dell'enzima l'acido arachidonico entra in questo canale lungo e stretto di atura idrofobica che vedete in violetto che è il canale della ciclosigenasi questo è un gruppo M e il sito catalitico dell'enzima è qui all'apice di questo canale della ciclosigenasi quest'enzima trasforma l'acido arachidonico che ha una struttura lineare aperta a 20 atoli di carbonio negli intermedi biosintetici per la sintesi di prostanoidi prostaglandina e trombossano nelle piastrine questo è un particolare del canale della ciclosigenasi quindi questa è la bocca del canale rivolta verso la membrana cellulare l'aspirina diffonde attraverso la membrana cellulare entra nel canale così come fa il substrato l'acido arachidonico e si lega inizialmente a questa arginina 120 in maniera reversibile come fanno tutti i farmaci antinfiammatoi non steroidei che competono per questo legame rispetto al substrato all'acido arachidonico tuttavia l'aspirina grazie al suo gruppo acetile è in grado di acetilare una serina che si trova immediatamente sopra l'arginina la serina in posizione 529 e quello che vedete in arancione è il gruppo acetile dell'acido acetil salicilico che ostruisce il canale della cicloossigenasi nel suo punto più stretto questo è il sito catalitico dell'enzima quindi questo processo di acetilazione irreversibile impedisce l'accesso del substrato al sito catalitico dell'enzima quindi la struttura tridimensionale ottenuta ai raggi X ci consente di capire perché l'aspirina acetila quella particolare serina e non altre e perché questo processo di acetilazione di quella singola serina è così importante nel blocco permanente dell'attività catalitica dell'enzima se adesso passiamo al confronto fra farmacocinetica e farmacodinamica queste sono le concentrazioni nel tempo dopo somministrazione giornaliera di 100 mg di aspirina gastroprotetta la forma più diffusa di aspirina a basse dosi che c'è sul mercato per 7 giorni in 24 soggetti sani e quello che voi vedete sono le concentrazioni plasmatiche di acido acetil salicilico dopo la prima somministrazione dopo la settima somministrazione e il Cmax cioè la concentrazione massima di acido acetil salicilico intatto cioè quello responsabile dell'acetilazione della COX-1 piastrinica è nell'ordine 3-4 micromolare ora quando vi vengono a raccontare che l'aspirina fa XYZ chiedete di dirvi a che concentrazioni fa queste cose bellissime che vi stanno raccontando e ricordate che le concentrazioni plasmatiche sono soltanto dell'ordine di 3-4 micromolare cioè nel basso micromolare un altro messaggio importante che deriva dall'analisi della farmacocinetica che voi vedete che un farmaco che viene somministrato una volta al giorno quindi qui e poi di nuovo qui dopo 24 ore ha delle concentrazioni plasmatiche che coprono sì e no un terzo dell'intervallo posologico quindi per due terzi non ci sono concentrazioni plasmatiche di acido acetilsalicilico in giro il che significa che è soltanto un meccanismo d'azione irreversibile come l'acetilazione della cox-1 piastrinica e il fatto che le piastrine non hanno capacità di nuove sintesi proteica che può rendere compatibile questa farmacocinetica con la farmacodinamica e cioè l'inattivazione della funzione piastrinica trombossano dipendente come vedete il target molecolare che vi ho detto prima la cox-1 richiede concentrazioni per la sua inattivazione nel basso range micromolare quindi compatibile con la farmacocinetica che vi ho appena fatto vedere in vivo e il meccanismo di inattivazione è un'acetilazione saturabile della serina in posizione 529 il read out biochimico e tutto questo è una soppressione virtualmente completa cioè del 99% della produzione piastrinica di trombossano a cui si associa una variabile inibizione dell'aggregazione piastrinica e dico variabile inibizione perché come sapete l'aggregazione piastrinica è un test abbastanza fra virgolette artificiale il cui la cui lettura dipende molto dall'agonista che voi utilizzate e dalle concentrazioni dell'agonista che voi utilizzate e arrivo alla conclusione in cui metto insieme meccanismo d'azione farmacodinamica ed effetti clinici per dire che acetilazione della cox-1 piastrinica inibizione della produzione piastrinica di trombossano e riduzione degli eventi vascolari da parte dell'aspirina sono saturabili a basse dosi e la saturabilità di questi effetti è il concetto chiave che vorrei voi tratteneste saturabile significa che posso raggiungere un massimo effetto poi nonostante io aumenti le concentrazioni in vitro o le dosi in vivo non posso ottenere un ulteriore maggiore effetto perché ho saturato quel particolare meccanismo d'azione allora l'acetilazione della cox-1 piastrinica è saturabile dopo somministrazione di aspirina in vivo nella stessa misura che si raggiunge con un eccesso di farmaco aggiunto in vitro l'inibizione della produzione piastrinica di trombosano è saturabile perché una volta che ho inibito la produzione piastrinica di trombosano del 100% evidentemente non posso fare di più a dosi basse questo è dopo singola somministrazione di 100 mg infine il beneficio clinico stimato nella cinquantina di trial clinici in pazienti ad alto rischio quindi di prevenzione secondaria dove sono state testate dosi che vanno da 75 a 1500 mg al giorno ci dimostra che la riduzione relativa del rischio che si osserva alle dosi più basse cioè in un range fra 75 e 150 mg è una riduzione di circa un terzo quando si aumentano le dose di aspirina fino a 10 volte più elevate fino a 1500 mg come vedete la riduzione relativa del rischio non soltanto non aumenta ulteriormente ma sembra addirittura diminuire cioè se volete leggere una relazione dose risposta questa relazione dose risposta per l'aspirina è di segno inverso cioè c'è un'apparente perdita del beneficio clinico in senso antitrombotico con l'aumentare delle dosi una cosa che oggi alla luce dell'esperienza che abbiamo fatto con gli inibitori selettivi di COX2 possiamo interpretare come dovuta a una inibizione dose dipendente della produzione vascolare di prostaciclina da parte di alte dosi di aspirina non parlo e non ho parlato di potenziale meccanismo d'azione dell'aspirina nella prevenzione del cancro coloretale perché questo richiederebbe parecchio altro tempo però ho cercato di darvi un framework concettuale all'interno del quale è possibile esaminare un effetto diverso dell'aspirina e cercare di interrogarsi su quale possa essere il meccanismo d'azione che lo sottende non è escluso e anzi è stato da noi formalmente ipotizzato che la stessa inibizione della funzione piastrinica trombossano dipendente tutto quello che abbiamo discusso finora possa contribuire a spiegare anche un effetto chemopreventivo dell'aspirina perché ci sono evidenze di una partecipazione dell'attivazione piastrinica nelle fasi iniziali della cancerogenesi colorettale e poi nelle fasi tardive della diffusione metastatica delle sciaglie tumorali e vi ringrazio per la vostra attenzione bene grazie Carlo adesso abbiamo studiato nei dettagli l'arma ora diciamo le conclusioni cliniche che Raffaele De Caterini ha affrontato anche nel documento che vedete qui sul tavolo e diciamo a disposizione di tutti quanti voi per consultazione e io mi auguro anche per diciamo corrispondenza attraverso il sito voi potrete fare tutte le osservazioni le domande magari commenti e la discussione sarà importante Raffaele prego grazie Massimo cari amici e colleghi della SIPREC a me tocca il compito di cercare di dare poi dei messaggi pratici che siano utili soprattutto al medico di medicina generale e al cardiologo che guarda al problema della prevenzione primaria e quindi cercherò di capitalizzare su quello che è stato detto fino adesso e cercare di trasferirlo in un messaggio pratico questi sono i miei conflitti di interesse ma voglio partire da questa considerazione che il rischio cardiovascolare come anche ha detto il dottor Zaninelli prima deve essere inteso come un continuum cioè non è possibile materialmente segmentare un'area della prevenzione primaria come scorporata completamente dalla prevenzione secondaria ora noi abbiamo un rischio che è definito come l'insieme di morte infarto miocardico e ictus espresso in numero di eventi per cento soggetti hanno che è molto vario quando un soggetto ha avuto una sindrome coronarica acuta è intorno al 10% quando un soggetto si allontana dall'evento acuto dalla sindrome coronarica acuta quindi mettiamo a due anni dopo che ha avuto un infarto senza recidive questo rischio scende e nell'angina cronica stabile è considerato intorno al 4% anno e poi al di sotto di questo abbiamo la cosiddetta prevenzione primaria che noi arbitrariamente in qualche modo classifichiamo al rischio basso medio alto ma fondamentalmente è una estremità di uno spettro quindi noi ci concentriamo in questo momento sulla possibilità di usare questo farmaco quest'arma il cui meccanismo d'azione è chiarito così bene in dettaglio direi che non esiste probabilmente farmaco cardiovascolare che è conosciuto con questo dettaglio molecolare e cercare di applicarlo in un uso pratico ora in prevenzione primaria nel 2011 inizio 2012 sono uscite quattro meta analisi che hanno cercato di sintetizzare tutto il messaggio di che cosa succede quando noi diamo l'aspirina in questa popolazione globalmente la popolazione dei pazienti in prevenzione primaria e allora vedete che il risultato è abbastanza concorde nel dire che noi abbiamo un risparmio di infarti non fatali abbiamo una riduzione molto modesta degli ictus abbiamo una riduzione significativa dell'end point composito di questi eventi non fatali abbiamo nessuna evidenza fondamentalmente di uno spostamento della mortalità vascolare però trovate questo coerente 6% di riduzione della mortalità generale mortalità per tutte le cause quindi questo è il beneficio che noi possiamo attenderci se noi trattiamo in maniera indistinta una popolazione vasta di soggetti fondamentalmente ancora sani noi non abbiamo esitazioni nel trattare con aspirina soggetti in prevenzione secondaria e quindi diciamo chiaramente trattateli date l'aspirina a tutti i soggetti che hanno una qualche evidenza di malattia vascolare sintomatica ma abbiamo tuttora delle esitazioni per i dati aggregati che vi ho portato per utilizzarla in prevenzione primaria la domanda che ho cercato di porre diverse volte è se è lecito dicotomizzare in maniera così spartana così precisa e così apodittica il rischio cardiovascolare probabilmente questo non è possibile questo è il motivo che ci ha spinto ha spinto un gruppo di colleghi del gruppo di lavoro della trombosi della società europea di cardiologia a cercare di arrivare a una formulazione pratica di indicazioni che possono essere dati in prevenzione primaria basandosi sul principio che la natura non fa salti che se noi diamo un'indicazione forte per l'aspirina in prevenzione secondaria non possiamo dare un'indicazione generica di non darla in prevenzione primaria dobbiamo in qualche modo trovare una soluzione di questo paradosso allora la soluzione è probabilmente cercare di vedere che cosa succede al beneficio che cosa succede al rischio nello spettro del rischio cardiovascolare e qui avete una raffigurazione del beneficio che è raffigurato da questa linea rossa rispetto al rischio di indurre il sanguinamento a mano a mano che noi in prevenzione primaria aumentiamo il rischio cardiovascolare definito come eventi cardiovascolari maggiori per 100 pazienti hanno nel gruppo di controllo allora voi vedete che il beneficio in termini di eventi maggiori che sono salvati tende a crescere con il rischio e questo diventa ancora più evidente in prevenzione secondaria saremo nella parte destra di questo diagramma che non vi ho presentato qui ci concentriamo nella prevenzione primaria vedete anche però che c'è un problema che è stato ampiamente enfatizzato in letteratura che c'è anche un aumento del rischio di sanguinamento in funzione del rischio di eventi cardiovascolari voi considerate che una delle principali determinanti del rischio di sanguinamento per esempio è l'età e l'età influisce sia sul rischio di eventi che sul rischio di sanguinamento quindi non è sorprendente che quanti più fattori di rischio cardiovascolari noi abbiamo tanti più sanguinamenti introduciamo ma la considerazione che vi faccio io che deriva da questa meta regressione dei trial che sono attualmente disponibili in prevenzione primaria è che la pendenza di salita della regressione che raffigura il rischio cioè l'aumento di eventi di sanguinamento in funzione del rischio è minore rispetto alla pendenza del beneficio e quindi noi quando aumentiamo il livello del rischio cardiovascolare noi allontaniamo queste due rette e quindi ci troviamo in una situazione di rapporto rischio beneficio favorevole questa è una considerazione che è chiarissima per livelli di rischio sopra il 4% l'anno ma che è ragionevole aspettarsi anche quando ci troviamo in questa situazione di prevenzione primaria ad alto rischio trovate però che noi non abbiamo forti evidenze da studi perché questa zona della prevenzione primaria ad alto rischio che vedete qui è povera di studi sono stati pochissimi gli studi gli studi sono concentrati soprattutto nel rischio molto basso e nel rischio che vogliamo definire intermedio ed è questo il motivo principale secondo noi per cui la evidenza del beneficio in prevenzione primaria è confusa per aver arruolato principalmente soggetti a rischio molto basso e questo è un problema di metodo che in parte verrà forse sanato dagli studi che sono attualmente in corso ma soltanto in parte perché è molto difficile oggettivamente reclutare soggetti della cosiddetta prevenzione primaria ad alto rischio c'è un'altra considerazione che voglio fare che è importante noi quando facciamo questi ragionamenti di rapporto rischio beneficio noi pesiamo in maniera uguale eventi cardiovascolari sfavorevoli ed eventi di sanguinamento cioè noi mettiamo sullo stesso piatto della bilancia un sanguinamento maggiore rispetto a un infarto e un ictus io vi chiedo ma è veramente lecito questa equiparazione la maggior parte delle analisi di rapporto rischio beneficio oggi quelle più raffinate vanno a guardare il cosiddetto rapporto rischio beneficio pesato cioè noi dobbiamo in qualche modo attribuire un peso prognostico a un infarto a un ictus a un sanguinamento gastrointestinale maggiore a un sanguinamento intracranico questo è stato fatto per esempio nella fibrillazione atriale dove sappiamo per esempio che gli anticoagulanti possono indurre un'emorragia intracranica sono i farmaci maggiormente gravati dal rischio di emorragia intracranica che viene ad essere gravato da una valenza prognostica molto peggiore dell'ictus ischemico che noi vogliamo vogliamo prevenire con gli anticoagulanti si dice che appunto per ogni morte legata a un ictus ischemico ce ne sono quattro legate a un ictus emorragico nel caso dell'aspirina però il sanguinamento intracranico è minore e vi dico che da un'analisi complessa della letteratura viene fuori che non è ancora chiaro se il rischio di emorragia intracranica con la sola terapia con aspirina viene a essere aumentato se viene aumentato è dell'ordine del 20% che è una quota molto molto bassa rispetto a quella che invece viene indotta da un trattamento anticoagulante almeno con i vecchi anticoagulanti orali quindi a fronte fondamentalmente di una prevenzione di eventi forti che sono l'infarto e l'ictus cerebrovascolare abbiamo un aumento minore percentualmente perché vedete che la pendenza sembra essere minore di eventi che non sono però così pesanti dal punto di vista prognostico per il paziente e quindi adesso abbiamo poi un ulteriore elemento che entra nell'equazione che è quello che è stato ventilato nelle relazioni precedenti cioè il fatto che l'aspirina possa essere anche un farmaco per la chemoprevenzione delle neoplasie cosa che ancora non è stata fondamentalmente dimostrata in maniera assolutamente cristallina secondo i canoni della medicina basata sulle evidenze che viene fuori però da metanalisi di studi per lo più randomizzati in ambito cardiovascolare con follow up non sufficientemente lungo e quindi non viene derivata questo tipo di evidenza da trial ad hoc che cominciano ad essere in questo momento in corso quindi abbiamo però questa idea che la riduzione della mortalità per cancro e della mortalità non vascolare come vi ho fatto vedere prima possa essere influenzata favorevolmente dall'aspirina grazie a un effetto di chemoprevenzione abbiamo dei trial in corso alcuni di questi sono in prevenzione cardiovascolare questi sono quattro trial che sono attualmente in corso probabilmente non daranno tutti delle risposte conclusive anche perché ripeto la gravità di queste popolazioni in termini di rischio cardiovascolare non è particolarmente alta anche in questi studi che sono in corso e abbiamo poi in corso alcuni studi importanti della chemoprevenzione nei pazienti ad alto rischio di cancro che daranno in futuro delle risposte più cristalline sulla importanza dell'aspirina come agente di prevenzione del rischio di cancro e tuttavia noi ci troviamo oggi in questa situazione in cui abbiamo un paziente davanti a noi con un rischio cardiovascolare diverso e noi dobbiamo cercare di dare delle risposte e questa situazione di necessità di trattare il singolo paziente che è davanti a noi è un qualcosa che deve superare secondo noi in qualche modo le incertezze noi dovremo decidere e questa è una cosa che non possiamo secondo me lasciare al paziente il paziente che si informa che sente elementi diversi in letteratura ma deve essere filtrata dal medico ed è proprio qui che è l'importanza delle società scientifiche tra cui la società di prevenzione cardiovascolare che in qualche modo deve informare e deve cercare di dare delle raccomandazioni univoche e quindi noi la conclusione che abbiamo fatto con questo documento europeo che poi vi riproporrò nel documento italiano è che la stima del rischio cardiovascolare globale tuttora rimane con le sue imperfezioni con le sue incertezze il modo migliore per decidere a chi dare e a chi non dare aspettandosi che molto probabilmente c'è un rischio nei pazienti della cosiddetta prevenzione primaria ad alto rischio cioè quelli che hanno un rischio di eventi cardiovascolari maggiori sopra il 2% per anno e proponendo questo semplice algoritmo primo punto stabilite il rischio cardiovascolare del paziente a 10 anni se questo rischio è sotto il 10% probabilmente non bisogna dare aspirina secondo punto assicuratevi sulla storia di sanguinamento sulla presenza di cause reversibili di sanguinamento sull'uso concomitante di altri farmaci che possono aumentare questo rischio di sanguinamento e a questo punto se il paziente si trova in questa regione intermedia e ha una forte storia di sanguinamenti probabilmente è saggio fermarsi in questa zona di incertezza e qui vedete un semaforo giallo andare avanti in questa zona in cui il rischio è intermedio in prevenzione primaria e in cui non ci sono forti elementi di rischio di sanguinamento e se il rischio è molto alto prevale la considerazione in qualche modo che il beneficio supera il rischio e quindi in questo caso semaforo verde se non ci sono degli elementi di cautela e qualche cautela naturalmente se c'è sempre il problema del sanguinamento considerare anche però il fatto di queste evidenze emergenti sulla possibilità di risparmiare degli eventi di cancro che in qualche modo entra adesso nella valutazione composita di quello che va fatto usare in ogni caso le basse dosi di aspirina perché sono quelle che assicurano il beneficio cardiovascolare maggiore e assicurano anche il massimo possibile della sicurezza perché queste dosi fondamentalmente interferiscono sull'emostasi interferiscono relativamente poco sul sanguinamento gastrointestinale e quindi sono quelle più sicure sappiamo che queste evidenze non sono ancora perfette ma ricordiamoci che molto spesso la cioè sempre la mancanza di evidenza non è una evidenza contro l'uso e la necessità di dover prendere delle decisioni come si dice Hick e Nunc di fronte al nostro paziente deve far prevalere queste considerazioni logiche alla fine per dire con un paragone noi al nostro figlio piccolo che vuol mettere la mano sul fuoco gli diciamo di non metterla anche se non abbiamo dei trial randomizzati che ci dicono che mettere la mano sul fuoco fa scottare questo tipo di ragionamento abbiamo cercato poi in Italia di esplicitarlo al meglio coinvolgendo diverse altre società ed è questo lo schema pratico che in qualche modo abbiamo cercato di trasferire nel documento SIPREC cercando di dare questo tipo di linee guida in una zona in cui le evidenze come ripeto sono ancora in qualche modo mancanti l'evidenza della chemoprevenzione dal cancro è stata apparentemente anche recepita un po' dall'AIFA che mantiene una finestra di particolare attenzione a questo problema che potrà in futuro probabilmente spostare la bilancia ancora di più a favore dell'uso grazie grazie a te e io credo che una discussione di pochi minuti poiché diciamo siamo stati in orario ma siamo partiti tardi penalizzerebbe la presentazione del documento vedo il presidente che mi fa dei cenni e quindi volevo solamente fare una considerazione che all'inizio del nostro documento che forse è interessante qualcuno ha definito il novecento il secolo dell'aspirina il brevetto è del 1899 e c'è questa frase di Gasset in un libro che si chiama La rivolta delle masse che dice così ed è un po' quello che tutti noi sentiamo oggi per l'uomo della strada la vita è più facile più comoda e più sicura che per i potenti di ieri se paragoniamo il novecento e il duemila e i secoli precedenti non c'è dubbio che questa cosa sia rile all'uomo della strada importa poco di non essere più ricco del suo vicino se il mondo attorno a lui gli dà strade ferrovie alberghi un sistema telegrafico benessere fisico e aspirina e con questo vi saluto